L'ospedale di Niscemi su Orcecili a Basarocco rischia di chiudere a causa dei tagli previsti alla sanità e per protesta il sindaco niscemese Francesco Larosa, gli assessori e il consiglio comunale intero hanno deciso di trasferire tutti gli uffici comunali all'interno della struttura ospedaliera. Il comune di Niscemi, che attualmente conta su una popolazione di circa 28.000 abitanti, chiede a gran voce all'Aspe di Caltanissette e alla regione siciliana il rispetto del protocollo sottoscritto diversi mesi addietro, precisamente nel mese di aprile, che prevede la creazione di una struttura complessa di primo intervento con 36 posti letto per garantire un pronto soccorso attrezzato con i reparti di terapia intensiva e la lungodegenza. L'accordo prevedeva anche una postazione del 118 con ambulanze dotate di rianimazione e personale medico e infermeristico per i trasferimenti d'urgenza, ma adesso non c'è più nulla di sicuro. L'ospedale Basarocco attualmente non dispone di unità operative complesse e i medici e gli infermieri che prestavano servizio a Niscemi sono stati trasferiti in altri presidi della provincia. Inoltre il pronto soccorso funziona a sinchiozzo, benché i pochi medici rimasti sono costretti a raddoppiare il turno per non lasciare scoperto il servizio. La chiusura dell'ospedale rappresenterebbe dunque una grave perdita per l'intera popolazione niscemese che sarebbe costretta a recarsi altrove. Qualcuno dall'alto vuole la morte del nostro ospedale. Noi abbiamo detto no. Prima Niscemi era questo, medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, anestesia, pediatria, endoscopia. Adesso Niscemi non è più nemmeno pronto soccorso. Noi chiediamo il sostegno all'ASP di Caltanissetta affinché la struttura non diventi una struttura semplice che non sia in grado nemmeno di dare il primo soccorso ma che rimanga una struttura complessa con tutto quello che è possibile e tutto quello che la sanità e la salute di una città di 28.000 abitanti ha bisogno.